BOLIDI! Se non lasciate subito un like al video di Oppo vi sterminerò senza lasciarne neppure uno! Parola di Eren Jaeger! E con questo ci mettiamo subito l'anima in pace BOLIDI! Lo inizieremo a trattare quando sarò in pari con il manga, con i capitoli usciti, così da avere una copertura contenutistica completa dell'opera nel suo insieme, analizzando chiaramente capitoli settimanali, episodici dell'anime, quando uscirà la seconda stagione ovviamente, o il film, approfondimenti di personaggi eccetera eccetera. Ultima cosa, poi iniziamo chiaramente a parlare dell'anime, se siete nuovi vi invito a iscrivervi al canale e in descrizione trovate i link di tutti i miei social, supportate questo video con un like così da aiutarmi nell'indicizzazione del contenuto. Partiamo subito col dirvi che Jujutsu Kaisen secondo me non è una copia, non è una copia di tanti altri manga o anime a cui si ispira, è qualcosa di totalmente diverso. Il mangaka Akutami classe 92, essendo nato chiaramente come me negli anni 90, è cresciuto con Pane, Shonen, Battle Shonen, come che ne so, Bleach, Dragon Ball, Naruto. Infatti l'ispirazione di queste opere la si sente, la si percepisce in Jujutsu Kaisen per quanto riguarda la magia, i combattimenti. Qui però è diversa la cosa, anche la costruzione del mondo narrativo e soprattutto dei personaggi. Il mangaka si è sforzato di creare una sua identità produttiva proprio di Jujutsu Kaisen e io definirei Jujutsu Kaisen come una sorta di fantasia narrativa, una storia nuova creata da un qualcuno che è cresciuto accompagnato da anime e manga del periodo. Un'opera che ha avuto delle influenze se vogliamo, ma che ha mantenuto un suo grado di unicità lo stesso. Jujutsu Kaisen però dà, inizialmente, poco tempo allo spettatore per abituarsi a quello che sta vedendo per quanto riguarda familiarità di personaggi. Potrebbe sembrare una roba negativa perché subito io ci sono rimasto, ho detto, cosa sto, chi è questo, cosa sta facendo, c'è dove siamo? Subito, come detto, non l'ho apprezzata questa scelta. Poi però, col proseguimento della storia, ho capito il delineamento dei personaggi e le scelte che hanno spinto il mangaka a non spiegarcele subito inizialmente. Ma magari questa è una roba soggettiva mia, magari qualcuno di voi potrebbe già averli capiti subito, anche perché la storia di base non è molto complessa o eccessivamente profonda, anche se inizialmente è così, poi dopo si sviluppa bene. Questa però non è una roba negativa perché la semplicità di un'opera non è per forza, cioè, guardate Myro Accademia o Demoslayer. Non sono difetti semplicità narrativa, profondità di essa. E può essere usata, secondo me, come arma se usata, logicamente, saggiamente. È più una spada di Damocle nel senso, cioè tu puoi usarla bene ma se non stai attendo ti si può ritorcere contro. Il caso di Jujutsu Kaisen però è un caso applicato dove la semplicità narrativa ci sta e fa capire allo spettatore dove siamo, cosa facciamo, chi sono i personaggi. Anche se, ripeto, inizialmente ti butta tutto addosso senza perdersi in mezze misure e tu pian pianino riesci a capire cosa sta succedendo. Anche perché la narrazione non ha punti morti e arriva subito al sodo, dando chiaramente il giusto minutaggio di dialogo, combattimenti, arriveremo a parlare dei combattimenti, creando un ritmo che, secondo me, funziona bene e spinge lo spettatore a quella sensazione perfetta, secondo me, che dice, boh, voglio sapere come va avanti. Non te lo fa droppare facilmente. Ora però parliamo dei combattimenti, perché è giustissimo, secondo me, approfondire questo elemento, visto che si parla di uno shonen e un battle shonen. E questo lo faremo da un punto di vista del manga, ma più che altro da un punto di vista dell'animazione, senza però andare in spoiler, non vi preoccupate. C'è la magia e ci sono i poteri speciali. Anche qui, come dicevamo prima, l'elemento dell'occulto, l'elemento della magia, sono presenti i classici jutsu, no, pala Naruto, o i poteri speciali alla Bleach. Ci sono però delle armi e ci sono i combattimenti marziali. Essendo amalgamati bene questi tre elementi, si ha un battle shonen simile a Dragon Ball, per i combattimenti simile a Naruto, per i ninjutsu simile a Bleach, o a, non lo so, Kenshiro un po', prendendola così, e sotto certi aspetti, ma veramente, cioè, qua è un po' borderline, a Jojo. Quindi questi elementi rendono i combattimenti uno più bello di quell'altro, secondo me, uno più diverso dell'altro, strutturalmente ben realizzati, ma accumunati sempre da un unico elemento, ovvero la diversità dei nemici, le loro peculiari abilità, l'approccio diverso che si ha nell'affrontare quel nemico, un approccio dinamico, non è come un Dragon Ball, dove tipo il nemico principale lo devi battere facendo il power up di turno e basta. Qui è necessario studiarlo, è necessario capire le sue debolezze e sfruttarle a nostro vantaggio. È figo, eh? È veramente bello vedere quanto sono ben scritti, perché non sono combattimenti a senso unico. Non è che va sempre a finire che vince il buono o vince il cattivo, non sai mai quello che succede. I personaggi sono anche costruiti per dare allo spettatore l'idea che riescono sempre a sviluppare una forza interiore incredibile, possono dare il massimo, logicamente, ma al contempo riescono a spiegarti cosa sta succedendo, parlando della storia, dei loro background che li hanno spinti fino ad arrivare lì, ti danno un'infarinatura della lore del mondo anche durante il combattimento. Per quanto riguarda l'animazione, beh, allora, io, come mi sono approcciato a Jujutsu Kaisen, ho letto il manga e poi ho visto l'anime. L'adattamento di Mappa è stato incredibile. Mappa ultimamente sta diventando uno degli studi più importanti degli ultimi anni, dopo gli adattamenti di God of High School, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, sono opere di un certo peso e la qualità si vede. Per quanto riguarda i poteri, no, le maledizioni, tutti i jutsu, no, le arti mistiche occulte, mi hanno ricordato un po' i kata di Demoslayer dell'UFO Table, con uno stile però diverso adottato da Mappa. La CGI qui non è così presente, dando così allo spettatore l'idea di stare a guardare il classico anime in 2D. L'anime è comunque pieno di questi combattimenti, quindi il lavoro qui sarebbe stato tanto lo stesso e quindi, secondo me, hanno pensato inutile fare dei combattimenti con la CGI, perché dopo, ok, che ci rende il lavoro più semplice, ma essendoci ogni due per tre combattimenti, eh, potrebbe essere un rischio poi dopo per proporre sta roba al pubblico. Questo concetto, come detto, non si applica a Jujutsu Kaisen perché siano dei combattimenti di alta qualità. E' spettacolare dal punto di vista registico, con vari cambi scena, cambi inquadratura, molti frame, molti colori, i suoni rendono i duelli unici, molto fighi. Anche le opening e l'ending le ho trovate carine, soprattutto l'ending della prima parte della prima season è qualcosa di esilarante, secondo me. I personaggi secondari ci sono, anche se effettivamente non vengono introdotti tanti personaggi nell'opera, in modo che tu riesca a familiarizzare con questo, quell'altro, capisci le differenze di questo, di quell'altro. I coprotagonisti, come detto, personaggi secondari ci sono, vengono inseriti abilmente all'interno dell'opera senza esagerare troppo e senza lasciarli proprio nel dimenticatoio, il giusto. Tanti almeno ricalcano il classico stilema degli shonen, quindi qui non c'è niente di nuovo, può piacere come anche no questa cosa. Il fatto è che però squadra che vince non si cambia, perché secondo me riesci ad familiarizzare sin da subito, ad amarli, empatizzi subito. Ma andando al succo del discorso, ragazzi miei, secondo voi, e ma adesso vi dirò la mia, Jujutsu Kaisen potrebbe essere definito una delle prossime grandi opere, un qualcosa che può rivaleggiare con i classici battle shonen, entrando di prepotenza nel mercato, settando uno standard di questo genere? Allora, secondo me sì, può settare alcuni standard nuovi. Per quanto riguarda invece il miglior battle shonen di tutti i tempi, ovviamente ancora presto per dirlo, ma non si può dire, dipende da tanti fattori, anche perché c'ha dei difetti, ovviamente. Il primo di tutti, secondo me, è il gusto, perché a tante persone può non piacere, ad altre tante può piacere, come tutte le varie opere di grande importanza, e non sia mai lo stesso Dragon Ball, lo stesso Out-T, lo stesso Naruto. Per molti Jujutsu Kaisen risulta il battle shonen perfetto, io per ora preferisco non espormi perché è presto, ripeto. Le premesse comunque ci sono per portare un prodotto di ottima qualità, l'anime è fatto bene, l'anime è molto figo, ha dato un plus al manga del 530%, quindi, insomma, se non ci fosse qualità narrativa di animazione e soprattutto di manga, questo boom non ci sarebbe stato, quindi qualcosa può voler dire. Si dà vita a un prodotto leggero, secondo me, ripeto, stiamo sempre nell'ottica del condizionale, vi dico la mia opinione, per tutto il video, lo ripeto, per quello che continua a dire, secondo me. Come detto, si propone come un'opera leggera, un'opera che però ti fa riflettere sotto certi aspetti, che propone qualcosa di diverso, ma al contempo di familiare, e che potrebbe piacere. Può cambiare il mercato? Ancora noi non lo sappiamo. Quello che è certo, secondo me, è che sta settando un nuovo standard, ispirata da un retaggio di opere passate che hanno reso possibile il nuovo volto dei Battle Shonen. Questa affermazione per ora è mia, è presto, forse, per dirlo. Solo il tempo, per ora, potrà confermare o meno questa cosa, e il lavoro, chiaramente, del mangaka, più lo studio di animazione, eccetera, eccetera. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, ragazzi miei. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. In descrizione, come vedete, trovate i link di tutti i miei social. Se foste nuovi, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, soprattutto se questo video vi è piaciuto. Andate a spulciare il canale e scoprirete tantissimi altri contenuti su tantissime altre cose. Noi ci rivediamo, come detto, in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti bolidi, alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.